è una bellissima occasione quella di essere con Escol Nevo grande narratore contemporaneo grande narratore israeliano molto amato dal pubblico italiano che lui ha incontrato in moltissime occasioni e questa nuova occasione ce la offre Torino Spiritualità naturalmente ringraziamo l'organizzazione ringraziamo anche tutti quelli che appunto hanno contribuito a questo incontro a cominciare da Raffaella Scardi che è la traduttrice storica potremmo dire di Escol Nevo che ci aiuterà ovviamente a dialogare con lui il tema di quest'anno è desideranti e quindi parleremo di desiderio e lui potremmo dire Escol Nevo è un esperto di racconto del desiderio che poi ha una sua natura invisibile il desiderio qualunque sia la sua sostanza e invece in realtà uno scrittore riesce a rendere visibili i desideri ci sono addirittura dei titoli tra i suoi più fortunati la simmetria dei desideri ma anche il più recente vocabolario dei desideri sembra proprio un'interrogazione del desiderio e della sua possibile incarnazione mi verrebbe da dire così e mi piacerebbe partire in questo ragionamento con lui proprio dall'incarnazione del desiderio cioè Escol Nevo come si rende visibile qualcosa che per sua natura è invisibile che addirittura a volte è impronunciabile raccontare una storia di desiderio o di desideri significa intanto far vedere dei personaggi in carne e ossa e tu nel vocabolario nei romanzi riesci a farci a darci la misura di come questo desiderio ci habita e in qualche modo ci determina appunto a renderlo visibile con le parole e come e come e ishi grazie 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 ecco arriva la tua domanda io certo il desiderio è qualcosa di astratto ma io sono un raccontastorio un narratore quindi io quando lo penso già lo vedo incarnato in una scena per esempio la scena di apertura della simmetria dei desideri in cui c'è una vera e propria azione fisica quattro amici dei fogliettini una scatola tutto quanto è già fisico e adesso vi racconto un'altra scena di un altro libro grazie una altra situazione, quella nel vocabulario del desiderio, che è una cosa molto molto mostrata, nella lettera B, baci, c'è una situazione molto specifica, l'ultima notte a Gerusalemme di due ragazzi, l'ultima possibilità di un primo bacio fra di loro e dopo questo desiderio, il desiderio nuovo di mantenere questo momento prezioso e quindi dopo il ragazzo sfugge, la ragazza non la vuole più incontrare, quindi per me il desiderio deve essere sempre e sempre organizzato dentro un tempo e dentro un luogo e per quanto possa essere sfuggevole, io lo devo imprigionare. Un'altra cosa molto difficile nella nostra vita e quindi anche nei libri è quella di dire i desideri, cioè in qualche modo nominarli, perché questi agiscono, entrano nella realtà, talvolta la determinano, però poi abbiamo bisogno di dire che cosa desideriamo agli altri, qualche volta però non abbiamo nemmeno il coraggio di dire a noi stessi cosa desideriamo. Ecco, mi sembra che nei tuoi libri ci sia una riflessione anche su questo, su come li nascondiamo a noi stessi, su come li diciamo solo a metà, la domanda o se vuoi la suggestione è proprio questa, che cosa vuol dire quindi pronunciare il desiderio e una volta che lo si dice, c'è un'espressione italiana che credo abbia dei suoi parenti anche in altre lingue, esprimi un desiderio, se lo esprimi quel desiderio che cosa succede? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e 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 interessante che tu mi chieda questo infatti è uscito proprio in questi giorni in israeli è il mio nuovo libro e in inglese si chiama inside information quindi informazioni interne che io non conosco veramente e infatti c'è una sorta di gioco fra quello che è detto esplicitamente e quello che è invece il mio desiderio inconscio sotterraneo e per esempio è questo il gioco della simetria dei desideri e di quello che è 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 quello che io desidero consciamente e quello che il subconscio porterà fuori e farà emergere quasi nonostante quello che io esprimo. e e c'è una e e e e e poi rispetto invece a questa radice della parola latina se quella mancanza secondo te quella separazione quella mancanza ha molto a che fare con la natura del desiderio e 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 in ogni persona che si è piaciuto bene, ma ti credo se si è piaciuto se una storia che si è piaciuto male... I doion ha semantico mi ratico bei avanti, perché in avverete, in avverete, l'anno presto, e io sono molto semplice che pavolo si s'aggo, perché in avverete in avverete, in avverete, in avverete, in avverete, in avverete, in due macie sondriamo, in due milioni sono molte, in ogni una di una delle aspetti. quindi la prima è la prima è messaella. La speciale è qualcosa che è stato faccio, qualcosa che tu mi invitzi e scopo e di domandi, e le scopo, e le scopo. Il ma importe la scopo, la scopo, l'ocopo che tu mi invitzi, la scopo che hai dietro, ma che tu mi invitzi. Quindi è il legato la scopo, la scopo, la scopo. Il legato il legato il legato della scopo, la scopo, la scopo, la scopo di legato, che è parato, che noi. non c'è la tascura, la erotica, l'asso a l'aggiver, il un'intensivo, il che c'è si sta attraverso l'amore, e che siamo, che abbiamo parlato di parola, di parola semantica, la tascura è massima la cattro, l'aklame, le stocco, E questa disquisizione semantica è molto interessante, ti ringrazio di averla aperta, perché in ebraico ci sono due parole diverse, completamente diverse, che traducono la parola desiderio. Uno è la parola Mishalah, che è quella che si trova anche nel titolo in ebraico di simmetria dei desideri, ed è legato alla domanda, alla parola Shela, che significa domanda, quindi a qualcosa che tu vorresti, vorresti chiedere, vorresti sapere, anche un dubbio, qualcosa quindi che non hai. E la seconda invece traduzione è la parola Chukah, e Chukah è la passione, anche la passione erotica, quella che è fra uomo e donna, quello che fa girare il mondo, dice Schuyl, ed è vicina semanticamente invece a parole molto drammatiche, come shock, hellen in ebraico, quindi qualcosa di molto forte, di una grossa rottura. E a proposito invece della radice nostra, al di là, diciamo, dell'etimo in sé, questa idea della mancanza, secondo te, cioè di qualcosa che comunque non ci basta, quanto c'entra col discorso sui desideri? e ho chuzgero alla stagione, le ragione, la scuola, l'etimo in sé, che ci sono un'estero, di una scuola, che ci si piacciono, ci si nostre persone che ci si riuscano, ci si tratta di noi, ci si tratta di noi, ci si tratta di questo, ci si tratta di un'ottore, ci si tratta di scolaholden, ci si tratta di scolaholden, e lui mi si parla e gli amamolo a me... se ciò che è messa Maxina a tutti i segni ogni sch glitch� che il nostro autarno non可mico o perpopolire e si,che Kim si,che prima, noi ciò che è sottono che ciò che c'è l'avun siamo un raiam è così non messeplici per noi, siamo raiabili a qualcosa di più altra per la prima volta. Penso che questo è vero riguardo l'anitore la semantica di desiderio, ma è anche vero per l'anitore per l'anitore. Per il giorno che io non sono raiab io penso che non sono raiab io penso che non sono raiab per l'anitore. Quindi, in un modo, 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 in un modo che non sono raiab. La prima cosa è la più grande che si può dare a me, è che tu è un po' e tu è ancora raiab. ad Ayn Raev che gli occhiano verso il fritto di altri studenti e un commento durante una riunione che abbiamo fatto recentemente di una delle insegnanti è stata proprio che ciò che unisce tutti coloro che si trovano in questa scuola è una fame una fame continua di vita perché una sola vita non ci basta e penso proprio che il desiderio sia il muovente dello scrittore io sono contento il più grande complimento che mi si può fare è dirmi che io sono affamato nel momento in cui non sarò più affamato temo che non sarò più in grado di scrivere e che temo molto in questo momento Hai anticipato una domanda che volevo farti più avanti e che invece io stesso anticipo che è così la prosecuzione di questo ragionamento il desiderio di altre vite quanto appunto ha a che fare con la scrittura l'hai detto un attimo fa mi viene sempre in mente un libro di uno scrittore a te caro e a noi caro Amo Soz La vita fa rima con la morte intitolato in italiano e racconta di uno scrittore a Tel Aviv che aspetta l'inizio di una presentazione intanto guarda le persone intorno a lui e in fondo desidera essere loro vorrebbe entrare nelle loro vite quella è anche appunto una forma di desiderio che ha a che fare con la vita che non ci basta tu quando finisci di scrivere un libro senti di avere appagato quel desiderio o immediatamente in qualche modo si ricarica il desiderio di scrivere e quindi di vivere altre vite l'ichioto 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 così, con le due settimane fa, io sono ancora nella grande emozione, che mi sommerge, nonostante sia il decimo libro che esce, questo fatto che come se la tua interiorità fosse riversata fuori e tu improvvisamente ti trovi di fronte ai tuoi protagonisti attraverso gli occhi dei lettori, mi richiede sempre almeno sei mesi per cominciare a riprendermi e a calmarmi da questa esperienza dell'uscita di un libro in Israele, perché io mi sento ancora molto vicino a miei protagonisti, voglio che vengano trattati bene, voglio proteggerli, voglio staregli vicino, quindi generalmente ci metto almeno sei mesi per cominciare a scrivere, ma adesso vi voglio raccontare di un'unica situazione in cui invece non c'è stato bisogno di questo. quindi 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 po' che è quindi ho avuto da Vanity Fair Italia la proposta di scrivere una rubrica settimanale, iniziando appunto con il vocabolario dei desideri. Quindi non c'è stato questo momento, questo abisso vuoto fra un libro e l'altro che è sempre difficile da gestire. Avevo questa scadenza settimanale, dovevo ogni settimana consegnare la rubrica, che mandavo Raffaele, poi le traduceva e poi usciva, e questo mi ha permesso di mantenermi nel respiro della scrittura, costantemente, e io sono convinto che grazie a loro questo nuovo libro è nato più velocemente ed è già potuto uscire adesso, perché non ho mai smesso di scrivere in questo periodo. Ti faccio una domanda un po' strana, che però prepara la seconda parte di questa conversazione che girerà intorno al desiderio e alla spiritualità, ovviamente nel tema e nel solco di Torino spiritualità. La domanda è se secondo te una vita senza desideri, cioè una vita invece di desideri appagati, cioè se noi riuscissimo, la dico così, ad appagarli tutti i desideri, noi staremmo meglio o peggio? E ulteriormente specifico, vale la pena veramente appagarli? Oppure ciò che ci tiene vivi è il desiderio stesso e il fatto che tutto sommato non riusciamo ad appagarlo del tutto. Sembra un po' psicologica e un po' capziosa, ma poi capirai perché andiamo in questa direzione. o le amsicli li rozzot? un mondo di desideri tutti appagati un mondo in cui io non scriverei e molto probabilmente nemmeno leggeremo un mondo molto brutto quello che ci descrivi ecco e allora partite da questo parliamo di desiderio e spiritualità io ti pongo la domanda come tu in qualche modo l'hai poi a un certo punto formulata preparando questo incontro può un desiderio essere spirituale? intanto ti chiederei ecco di darci la tua visione delle cose e poi proviamo a capire se poi l'appagamento spirituale diciamo così potrebbe addirittura sospendere i desideri ma insomma a questo ci arriviamo intanto ti ripongo questa domanda molto bella e molto difficile se appunto un desiderio può essere spirituale alla c'ucca perché penso che sia un'ottima che c'è un'ottima che c'è un'ottima c'è un proccandolo in questo senso, la salute fizzetto, ci sono passati a kutell e tu rosa con la bani bene le pimenti di pimenti di pimenti di pimenti di pimenti, con gli altri one vengono, anche se c'è questa cosa, si è vero, buonò, 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 ilینo, si è avuto una controllo, buonò, buonò, Ebbene, quando abbiamo parlato del titolo di questo incontro e dei desideri, che per me era se i desideri possono essere spirituali, io pensavo di più alla passione. Ma invece adesso voglio tornare all'altro termine, miscialà, la richiesta che abbiamo in ebraico. Ebbene, la situazione dal punto di vista ebraico è molto chiara. Quando un ebreo ha una richiesta nei confronti di Dio, religioso o no che sia, ha un'azione molto chiara che può compiere. La scrive su un foglietto e la porta al muro del pianto, che è un luogo molto spirituale, il muro occidentale del tempio. Quindi nei fogliettini che noi troviamo tra gli interstizi delle pietre del tempio, del muro del pianto, ci sono richieste di ogni tipo anche molto concrete, denaro, successo, oppure riuscire a superare una situazione difficile. Quindi in questo luogo spirituale abbiamo delle richieste anche molto pratiche. Buongiorno, buongiorno. e anche il tschocke anche, per rispottere, c'è un'rò mai maniente quando si chiamo sui attrazione e la tschocke maina inizia per la tschocke maina, inizia che è la tschocke maina, inizia che è la tschocke maina, e la tschocke maina, inizia che è la tschocke maina, è un'ipissima, è una parola fra la Ruhani verso la Gashmi cioè se non è ruhani o non è ruhani è una simulazione che non è rai è una simulazione se ti metti se non rispondi solo a tecniche quindi là quindi l'aspetto l'aspetto è erotico o amini è un'accomo è un'accomo è un'accomo e un'accomo e un'accomo e un'accomo se 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 e un'accomo e un'accomo e al mauro è e a mauro se e a mauro è tutto ciò che mi piace perché ho ancora una piscata parliamo di passione invece sensuale bene per l'ebraismo ci possiamo fare riferimento o al Tanakh quindi alla Bibbia oppure alla Kabbalah per quanto riguarda la Bibbia effettivamente la passione sensuale legata sempre a sensi di colpa soprattutto se riguarda una donna e anche alla punizione pensiamo per esempio all'episodio di Davide Patshema Wau, זה היה קצo quindi se noi stiamo a chiudere alla Kabbalah siamo noi immaginiamo una giscia altra siamo noi immaginiamo che il schibore givera l'essia il schibore hamini givera l'essia è un schibore è un schibore passiamo invece alla Kabbalah ebbene qui il legame sessuale fra uomo e donna è visto in maniera completamente diversa perché rispecchia il legame fra l'uomo pio l'uomo giusto e la shekhina che è la presenza divina nel mondo che è femminile considerata quindi il legame fra il creatore e l'uomo quindi nella visione mistica dell'hebraismo il desiderio sessuale diventa completamente spirituale allora è un schibore e il schibore quindi quando arriviamo alla idea di rispondere 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 e rispondere a sessuale e rispondere senz'altro vietato per moltissimi motivi e incluso per fra chi avviene due persone sposate e dove avviene c'è un bico un bagno rituale eppure io l'ho scritto come una esperienza completamente spirituale e nella quale c'è un ticù una sorta di completamento di recupero delle parti più sane di questi due personaggi e un'esperienza quindi completamente positiva e profonda e ero convinta che quando convinto che quando sarebbe uscito in israele questo libro sarebbe stato vietato la lettura delle persone religiose invece molte persone credenti l'hanno letto hanno avuto molto da dirmi quindi dal punto di vista ebraico la questione del desiderio può essere vista con nuance molto differenti è vero che anche nel discorso spirituale il tema del desiderio erotico ha molta molto impatto perché in un certo contesto spirituale o per meglio dire religioso diciamo così il superamento delle tentazioni del desiderio erotico sembrerebbe diciamo così l'approdo a una sorta di pacificazione appunto con i desideri più pericolosi e in questo senso come se ci fosse diciamo così una sorta di polarizzazione tra desiderio erotico e un altro tipo e un altro tipo di desiderio non so nella cultura naturalmente cattolica mi viene da dire effettivamente c'è proprio un conflitto un attrito ancora molto forte sono rari i teologi o i sacerdoti che riescono davvero e fino in fondo a pronunciare anche il desiderio erotico ma penso a una a un testo bellissimo della cultura delle sacre scritture che è quello del cantico dei cantici in cui invece e questa volevo lasciarti come suggestione anche il desiderio erotico in qualche modo ha una sua santificazione che passa appunto per una dimensione spirituale non è una domanda insomma è una suggestione che ti lascio è un'ottima è un'ottima è un'ottima è un'ottima ma anche un po' come sui raggiungo, che è davvero stessuto, che ha raggiunto la mia vita, è stato un po' più arco, mi sembrava che non mi sono ancora più attuato, ma è molto ammaiato, ma è una cosa molto interessante, c'è un po' più, ho più mai più anni, oltre 12 anni, e ma inizia, grazie a tutti i nostri Discoveri Quello che dice è molto interessante, sono mai 12 anni che vengo regolarmente in Italia, però non sono ancora veramente riuscito a capire qual è il rapporto fra il cattolicesimo, la chiesa, la passione erotica, sto ancora imparando a capire come funzionano in Italia queste cose, quali sono le nuance di questa relazione. Non sarei credo in grado di scrivere una storia, tipo quella di cui parlavo prima, di soli e perduti ambientata in un paese cattolico. Devo evidentemente ancora tornare in Italia a studiare l'argomento e venire a sentire molte delle conferenze del festival della spiritualità per arrivare. Grazie a tutti. 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 desideri in dio perché l'unico desiderio è quello diciamo così che coincide con come direbbe dante l'amor che muove il sole e le altre stelle cioè con questo disegno universale è complicata ma insomma la sostanza è proprio se riesce a immaginare che ci sia un paradiso o un cielo paradisiaco in cui non abbiamo bisogno di più di desiderare ho voglio di ripieno a scottare voglio di ripieno a scottare ho voglio di ripieno a scottare uno dei miei primi primi, adiare la scuola all'alho, e la mia scuola all'alho, che, anche se è la scuola all'alho, adiare la scuola all'alho, non importa quattro la scuola all'alho, tu hai in una scuola all'alho, qui, d'anti ha scelicato a scuola all'alho, c'è il risultato di risultato di risultato di risultato di risultato. il risultato di risultato di risultato. permaんで il risultato di risultato del risultato di risultato di risultato di risultato e ci sono moltissime anche per i bambini i bambini i bambini i bambini i bambini, se ci si è un po' l'anessi bini 30 che ho appoggiato, o l'assimi bini 30 quindi mi sembra che, a favorevole che mi ha detto, mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che non credo che il ragazzo o la possibilità di essere razzoni, ma è molto più che mi ha detto, ma non è o quanto sei dovutare o quanto non e sono ha attivate sono miégno di molti ma la la tutta la la l'am l'am 20 è un po' paura quello che chiedi, più ci penso, più mi manda in ansia la tua domanda sui desideri completamente appagati. Ho festeggiato poco tempo fa i miei 50 anni e mi trovo in un momento in cui questa cifra tonda mi porta a guardarmi indietro, è un buon momento per vedere quali desideri avevi, quali hai appagato, le paure che ci sono ancora, i desideri che ci sono ancora. Non mancano, come non mancano le passioni, gli amori, le responsabilità verso i suoi figli, mi sento ancora molto vivo e pieno di desideri, però se riguardo il me a 30 anni quando ho scritto l'assimmetria dei desideri piuttosto che i trentenni in generale, ecco dal punto di vista spirituale direi che ero forse molto più confuso e che nel crescere si resta insoddisfatti, non si smette di desiderare, però si ha sempre più chiaro che cosa ti fa bene e quali sono i tuoi desideri e questo forse significa proprio appunto crescere, maturare. Non sono certo che questa sia la tua domanda, una risposta adeguata alla tua domanda, però rispetto al momento in cui appunto scrivevo i bigliettini da mettere nella scatola durante il mondiale, è cambiato molto bene. Grazie, grazie. che avevano scritto nel Mondial del 1998. Quindi cosa succede per 22 anni? Mi ha piaciuto molto che mi ha piaciuto, per la prima volta che mi ha pensato a scrivere un sequel. Non mi ha piaciuto, ma mi ha pensato a questo nel tempo. Quali sarebbero i desideri di quei trentenni oggi se si incontrassero ai Mondiali del Qatar nel 22? Oggi che hanno 50 anni. Cosa è successo nel frattempo della loro vita e che cosa desidererebbero a questa nuova età? Quindi ci sto per la prima volta seriamente pensando dopo tutti questi anni a scrivere la continuazione. Beh, sarebbe bello, ovviamente. Ti faccio l'ultima domanda. Nasce da un esperimento stupido che ho fatto con i nostri assistenti vocali, Siri e Alexa o simili, a cui ho chiesto, per un libro che scrivevo in Italia, che cosa desideri? L'ho chiesto sia allo smartphone, sia a Siri che ad Alexa. Allora, Siri mi ha risposto, bella domanda, ma purtroppo non sono in grado di rispondere. Alexa invece risponde, la pace della mente. Allora, intanto Raffaella, tu raccontagli questo e poi faccio la domanda. Allora, la questione è la domanda che ha fatto con Siri e Alexa. Allora, ho chiesto, ma sei tu, o hai chiuscato, e Siri ha detto una domanda, e Alexa ha detto una domanda, e Alexa ha detto una domanda di rispondere la domanda. sì, nefes che ta באמת? Alexa, è stata la scelta del nefes? Wau come dice incredibile in Italia incredibile wow wow Alexa è piaccato è piaccato come l'inizio della scelta di fattacenza che tu scriverai è possibile ma in realtà invece quello che volevo chiederti visto che la fantascienza l'abbiamo vissuta tutti nel senso che questa è stata una lunga stagione di pandemia e di crisi sanitaria oltre al fatto che a questo si aggiunge anche la turbolenza che vive Israele la Palestina e in generale ti sembra che questo lungo periodo di crisi sanitaria sia stato anche un periodo proprio di negazione dei desideri cioè detto in altri termini per concludere ti sembra che gli esseri umani che incontri si sentano frustrati a livello di desideri di desideri magari anche piccoli ma appunto per lungo tempo inappagati che fino a che io ne vincere in Italia, allora ciò che è già più amore. Ma che accorna ora in Israele, è un po' altro, è un po' altro, anche perché è un po' altro, non siamo non facolti da scatare ma maggiore, questo è già un po' abbastanza, ma è solo un po' di riporto, questo è un po' di 15 anni, in cui è un po' abbastanza, è un po' abbastanza che l'abastanza, è un po' abbastanza che l'abastanza, e l'adam, l'adam è un po' abbastanza, il po' abbastanza, l'adam è un po' abbastanza, e meirà e questo è un soggetto molto difficile di continuare a essere ottimi e di malare ticchia nei giorni quindi ti metti a te e ti metti a te e ti metti a te e io mi raccoglio e mi raccoglio e mi raccoglio è difficile rispondere a questa domanda la conclusione del nostro incontro è molto diversa da tutto quello che c'è stato fino a tutte le domande precedenti io mi auguro davvero che finché il pubblico non vedrà questo incontro la situazione qui si sarà calmata sono due esperienze molto diverse quella del corona e quella che sta accadendo adesso in Israele il covid è stata un'esperienza difficilissima durissima di affrontare un nemico esterno qual è il virus e vedere come tu come persona riesci a reagire quanto puoi comunque collegarti agli altri esseri umani quanto come insegnante puoi lavorare con i tuoi studenti anche via zoom e continuare ad aiutarli in questo modo quindi si trattava di un nemico esterno io mi auguro veramente caldamente che sia qualcosa che sia per terminare questa pandemia e che quando arriverò in Italia fra pochi mesi sarà una cosa conclusa dietro le nostre spalle quello che invece sta accadendo in Israele adesso è una storia che si ripete si ripete costantemente per quanto riguarda Gaza sono 15 anni da quando è nata la mia seconda figlia che periodicamente ci sono scontri di questo tipo ed è una sfida veramente dura restare positivi e optimisti che mantenere l'esperanza fronte in la situazione del genere e le nostre spalle una sfida non solo è duro come ho detto poco fa ma è proprio una sfida nel continuare a credere che la natura dell'uomo sia buona, sia positiva profondamente. Sono giorni duri per chi è ottimista e per chi vuole restarlo e io come scrittore di sicuro non voglio aumentare la disperazione che già circola, quindi io investo tutta la mia speranza e tutte le mie energie nelle piccole cose che posso portare avanti, per esempio nel mantenere vive le relazioni con amici arabi o con scrittori arabi che lavorano nella mia scuola, insegnanti, studenti, mantenere vive queste relazioni di amicizia sostenendosi, sentendosi tutto il tempo, cercando di rinforzarsi a vicenda e quindi in qualche modo tieni duro sentendoti legato sempre a quello che ti dà speranza e che ti porta ad avere fiducia, possibilità. è una cosa che... è una cosa che... che ci sono stati grazie ebbene le persone religiose si possono sostenere leggendo la Bibbia o leggendo il Vangelo per me ci sono alcuni libri che sono la mia Bibbia quindi in quest'ultimo fine settimana ho riletto un libro che amo particolarmente Aquiloni di Romain Gray nel quale il messaggio forse più forte è che se tu ricordi con abbastanza determinazione il tuo paese come era prima della guerra potrai poi lavorare per ricostruirlo quando la guerra sarà finita potrai lanciare degli Aquiloni di speranza nel cielo e quindi io mi sforzo tantissimo di ricordare le cose buone di tenere duro pensando a quelle in modo di avere la forza poi di ricominciare a vivere e portare avanti queste cose positive dopo la fine di questo periodo che è veramente nero grazie Escol Neo per essere stato con noi in questo dialogo per Torino Spiritualità intorno al desiderio in Italia uscirà finalmente il 23 settembre il tanto atteso Tre Piani di Nanni Moretti tratto dal suo film dal suo libro non so se l'hai finalmente già visto il film noi siamo in attesa ma spero che quella sia una delle tante occasioni di ritrovarti in Italia anche in occasione appunto dell'uscita del film non so se vedi la stagione di ripagare in Italia quando si è riuscito. Non, non ho mai raiati ancora il senso, non mi ha avuto il senso, non mi ha avuto il senso, ma raiati scena di metà il senso, e mi rai mai più, è un senso, e ho la scopera, e ho una cosa trova, e io mi chacca, penso che io sono in Italia prima che la scopera è avuto a scopera, mi è beneduto che io avuto a scopera, ma io voglio andare in Italia prima, mi credo che c'è un'eserci, c'è un'eserci, un'eserci che si è un'eserci, che si è un'eserci, e mi accuento a essere in Italia, in questo settembre, inizia a tutti iuli, e per la raiutare con il mccanere, e per la raiutare, per la raiutare, per la raiutare, per la raiutare, per la raiutare. no non ho visto il film Nanni lo nasconde nel computer e non ce lo fa vedere ho visto però qualche scena in passato e mi sembra nello spirito molto vicino al mio libro quindi veramente un grande desiderio di vederlo ma conto di arrivare prima di settembre forse a fine giugno ai primi di luglio perché ho questa grande nostalgia dell'Italia e il desiderio di farmi curare guarire dalla sua bellezza e dal mio amore per lei Grazie Raffaella Scardi grazie Escolnevo grazie a chi ha seguito questo dialogo Arrivederci Arrivederci